Musica Ormai sono sbagliati anni che abbiamo ripreso questa festa tipica patronale di San Giovanni a Teduccio, della festa del Santo Polo di San Giovanni Battista, anche quest'anno cerchiamo di portare nel quartiere una ventata di legalità e di festeggiamenti. Questo è un quartiere che notoriamente sta alle cronache nazionali per i fatti negativi che succedono. Il nostro impegno del Comitato è quello di affiancare a una festa religiosa qualcosa che possa essere anche inteso all'esterno come qualcosa di positivo. Coinvolgiamo in queste manifestazioni sia gruppi tipici di canto popolare, sia gruppi che hanno un eco nazionale e cerchiamo ogni anno di migliorarla. Quest'anno abbiamo cominciato come al solito con un omaggio al Santo Patrono, stasera ci sarà un'alzabandiera con l'inalzamento delle figie del nostro Santo Patrono e continuerà tutto l'iter festaiolo fino al giorno 26 dove ci sarà il nostro momento clou che è la processione della statua. Processione che ha avuto dei trascorsi un po' nefasti negli anni precedenti alla venuta qui nella nostra parrocchia di Don Vincenzo Liardo che purtroppo non è più fra di noi. Questa mancanza ci ha portato uno stimolo maggiore affinché questa festa si continui e perda sempre più una strada di normalità perché noi quello che abbiamo bisogno in questo quartiere è la normalità. Cerchiamo con queste attività di dare una normalità ad un quartiere che ha poco di normalità. Siamo a San Giovanni, faccio parte del comitato festa del Santo Patrono San Giovanni Battista, una festa che abbiamo ripreso qui nel quartiere siamo quasi alla settima edizione, stiamo cercando di rivalutare la festa dopo un periodo buio, abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti la festa è seguita da migliaia di persone e quella cosa che ci fa più gioia è che portiamo un po' di serenità sul territorio quest'anno in particolare abbiamo dislocato la festa su più punti, cioè in varie parti del territorio faremo degli eventi musicali, degli eventi artistici quindi diciamo che invitiamo tutta la cittadinanza perché affinché per una settimana almeno San Giovanni non è più detta periferia di Napoli ma possa diventare il centro di questa città. È una festa culturale innanzitutto, è una festa con eventi religiosi ed eventi sociali il programma lo troverete sulle nostre pagine internet e facebook, quindi veramente invitiamo tutta la cittadinanza per questa importante iniziativa Il progetto della festa di quest'anno è sostanzialmente simile a quello degli ultimi anni prevede un programma religioso che si affianca anche a un programma di festeggiamenti di ordine culturale da un punto di vista religioso penso che sia importante la preparazione che si farà già nei prossimi giorni a partire con la novena, quindi con la celebrazione della messa che vuole essere un po' un richiamo anche nei confronti dei fedeli certo il momento centrale poi è quello della processione di San Giovanni Battista una processione che non vuole essere la semplice processione del patrono rivolta ai fedeli devoti ma vuole essere qualcosa di diverso, vuole essere il segno di una chiesa in uscita che incontra le persone e che incontra la gente, vuole essere anche il segno di una chiesa che ha il coraggio di scendere per delle strade che spesso sono strade difficili e da un punto di vista culturale in qualche modo si riprende anche questo significato sono previsti diversi momenti di animazione di piazza diceva poc'anzi anche il presidente del comitato Giovanni Mettivie anche giovani che spesso sono originari del quartiere che quindi sono diventate persone che riescono a dare un messaggio anche ritornando nel loro quartiere impegnandosi nell'animazione un'animazione che vuole dare anche un messaggio di strade che diventano strade vivibili luoghi di incontro, occasioni per stare insieme credo che la processione di San Giovanni sia un elemento importante, fondamentale per il nostro quartiere non solo dall'aspetto religioso, anche perché negli ultimi anni con Don Enzo Liardo si è sempre voluto dare un imprimatur evangelico, di evangelizzazione ma anche di elevare l'umanità di questo territorio diventa un segno di testimonianza la parte buona di questo quartiere che è inettanta si fa spazio, si fa spazio tra le strade si fa spazio in quei luoghi bui, in quei pozzi neri che devono diventare sempre pozzi di acqua viva di acqua e presenza di Gesù Cristo San Giovanni è il testimone dell'amore indica sempre Gesù Cristo noi dobbiamo sempre di più ogni giorno indicare questo volto di Gesù Cristo che all'interno di ciascuno di noi è impresso in ciascuno di noi con il battesimo e quindi la processione, questo uscire per le strade andare incontro a queste persone che hanno bisogno di un'umanità di una dignità grande diventa sempre più bello, sempre più coinvolgente e anche le persone si appassionano sempre di più a questo momento c'è anche un aspetto culturale che viene proposto purtroppo le istituzioni non propongono sempre cultura e noi attraverso la festa vogliamo proporre anche cultura una cultura fatta dai giovani del nostro territorio che crescono sempre di più e che diventano sempre più bravi nell'annunciare con bellezza e con novità dell'arte questa bellezza dell'umanità nuova che deve essere posta al centro della nostra città del nostro quartiere ma credo in tutto il mondo grazie a tutti